e salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora oggi parleremo di laptop dopo un pochettino di tempo e in particolare del lenovo legion pro 7i 2023 parliamo di un laptop da gaming con caratteristiche davvero da urlo partiamo dicendo che per quanto riguarda l'utilizzo in mobilità dove spesso questi laptop da gaming soprattutto se montate processori e gpu di un certo calibro la batteria tende a risentirne durante le sessioni intense di gaming beh questo lenovo ha una modalità chiamata hybrid ai gpu si può disattivare la gpu discreta del laptop in questo caso specifico magari potrebbe essere una possente ed energivora nvidia geforce rtx 4090 per laptop e utilizzare solo quella integrata nel processore riducendo magari le prestazioni ma anche i consumi e la rumorosità inoltre la modalità termica silenziosa va ulteriormente a ridurre i carichi di lavoro aumentando di conseguenza ancor di più l'autonomia il prodotto è davvero solido ben costruito uno schermo all'altezza un prodotto premium come si suol dire e strizza l'occhio anche come vedete ai consumi lo comprerei questa è la domanda forse sì ma con un grande ma nel senso che sicuramente lenovo è una delle case leader nella produzione di laptop marca ragazzi affidabilissima ovviamente non sto qui a dirvi che i prezzi sono molto alti come per ogni laptop di questo genere se volete qualcosa di decente dovete acquistare qualcosa da una 3060 in su al di sotto non c'è cioè praticamente questi laptop non hanno nulla cioè non vale la pena ragazzi non solo da gaming una 3050 lo vi permette di giocare bene come per me ragazzi non è come dire non ha senso di esistere né un laptop con una 3050 ma nemmeno un laptop con una 490 o una 480 cioè ragazzi se ci riflettete una 4060 attuale laptop ovviamente è equiparabile più o meno a una 3080 laptop della generazione precedente che già tanta roba e si trova insomma questi portatili si trovano intorno in genere ai 1200 ai 1300 euro che tutto sommato è sempre tanto con la stessa cifra ci potete tirare su un fisso da gaming veramente bestiale però ragazzi consumano veramente un fottio questi portatili questi laptop e secondo me chi cerca un laptop vuole soprattutto portabilità e durata e beh tali laptop con tali schede chiaramente non ve la garantiscono chiaramente la situazione è differente se per esempio vi serve questo laptop per che ne so sostituire un fisso per motivi lavorativi o semplicemente che ne so perché non avete spazio per una postazione fissa allora a quel punto spendere barra buttare questi soldi potrebbe essere qualcosa insomma di sensato però ragazzi secondo me invece di investire questi soldi in questi laptop potreste spendere lo stesso e tra virgolette buttarli su un fisso però vabbè queste queste sono mie idee fate voi invece io penso questo che prendere il top per quanto riguarda un laptop non è consigliabile invece prendere la generazione 60 magari successiva questo ragazzi è il mio consiglio spero insomma che io sia stato chiaro insomma questi video sono sempre abbastanza difficili da fare c'è chi ha idee differenti e quant'altro quindi tante volte si tende a avere dei piccoli contrasti però ragazzi cerchiamo di essere educati nei video fatemi sapere che cosa ne pensate voi se il video vi è stato utile se avete mai provato voi dei laptop da gaming io sì ne ho avuti un paio e diciamo l'esperienza di gioco insomma la spesa non giustifica secondo me le prestazioni anche con laptop diciamo di fascia abbastanza alta fate schifo rimarrete sempre emigranti del congo belga al posto del cervello ci avete le vongole vereci ci avete ignorato e però questo chiaramente non toglie che i laptop da gaming negli ultimi anni si stanno evolvendo in positivo e rappresentano un'ottima alternativa al pc fisso ma ragazzi questa cosa spero che sia chiara a tutti non possono sostituire un pc fisso quindi è inutile andarli a comparare con le prestazioni di un pc fisso cioè non c'è storia non ci sarà mai storia ok però detto questo fatemi sapere che cosa ne pensate voi sotto nei commenti quali altre marche insomma comprereste di laptop quali sono magari le vostre preferite il video finisce qui come al solito vi invito iscrivetevi al canale lasciate un bel like o dislike commentate condividete attivate la campanina dei notifichi non perdetevi gli altri video e supportare il canale vi ricordo che saremo live anche su tiktok per sapere quando siamo live guardate le nostre storie instagram e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ah che bella fisciata che bella ah che bella che bella con che bella Grazie a tutti.